Musica Suoranna Monia ci spiega con parole compensibili in cosa consiste l'introduzione del costo standard. Lo Stato non può più spendere neppure un centesimo per la scuola pubblica sia statale che paritaria, entrambe destinate per motivi diversi al tracollo. L'unica soluzione per evitare il disastro è definire il costo standard di sostenibilità per allievo. Questo costo non è quello che deriva semplicemente da una media ricavata alla buona dalle spese sostenute per ogni ragazzo che va a scuola, spese che comprendono anche i soldi buttati nello spreco. Il costo standard, cioè una quota capitaria che spetta all'alunno e alle famiglie che lo assegnano alla scuola prescelta, si fonda sul diritto inviolabile della libertà di scelta educativa. In poche parole, il finanziamento spetta all'allievo e alla famiglia e di conseguenza è da essa assegnato alle scuole pubbliche, statali o paritarie, in quanto servizio scelto dalla famiglia stessa. L'alternativa è la scuola statale di regime, come quella dei regimi totalitari. Caspita, quali vantaggi produrrebbe il costo standard per gli alunni, le famiglie e l'Italia intera? In pratica, dotando ogni alunno e quindi i genitori di un cachet da spendere nell'istituto che intendono scegliere, si realizzerebbe finalmente il pluralismo educativo, cioè si darebbe alle famiglie che hanno già pagato le tasse la possibilità di decidere fra una buona scuola pubblica statale e una buona scuola pubblica paritaria. Scatterebbe inoltre una sana concorrenza tra le scuole pubbliche statali e paritarie, mirata al miglioramento dell'offerta formativa. Si introdurrebbero le leve della valutazione e della meritocrazia, cioè va avanti solo chi fa bene veramente, povero o ricco che sia. Lo Stato potrebbe smetterla di considerare la scuola un ammortizzatore sociale, cioè il luogo di lavoro che serve a sistemare chi non sa fare altro. Inoltre, nonostante l'infornata di 150.000 docenti, abbiamo cattedre vuote poiché l'offerta dei docenti non incontra la domanda né per località né per disciplina. Sai cosa succede? Il cittadino paga il docente che al primo settembre firma il contratto e che grazie a cavilli vari non compare in classe e io pago il supplente, direbbe la brava persona che paga le tasse. Ma sai quanti docenti e dirigenti pagati non insegnano? Ci sono poi altri vantaggi che deriveranno dall'applicazione del costo standard di sostenibilità. Innanzitutto ci sarà il docente di sostegno per l'allievo disabile sia che frequenti la scuola pubblica statale che la scuola pubblica paritaria. In secondo luogo chiuderanno i diplomifici noti e intoccabili. Sì, sono appena lo 0,3% del totale delle scuole pubbliche paritarie, ma si sa, un cancro, anche se piccolo, è fastidioso e dannoso. E sai perché i diplomifici chiuderanno? Perché i genitori semplicemente non li sceglieranno. In terzo luogo saranno eliminati i finanziamenti a pioggia per fantomatici progetti che non solo contribuiscono al tracollo economico della scuola pubblica statale, ma anche affossano il pluralismo educativo offerto dalla pubblica paritaria. Ma con il costo standard non c'è il pericolo di affossare le scuole comunque valide, ma che per ragioni oggettive lavorano in condizioni difficili, ad esempio in zone depresse culturalmente o dove l'abbandono scolastico è alto? Assolutamente no. I parametri del costo standard di sostenibilità saranno calibrati sulla situazione di ciascuna scuola o meglio ancora di ciascuna classe. I parametri saranno definiti tenendo d'occhio i problemi sociali, economici e logistici del territorio, in una prospettiva di miglioramento favorita dal fatto che le famiglie potranno scegliere. Sì, mi faccio un bel esempio. Ad esempio, nelle zone ad alta criticità sociale, lo Stato, con il risparmio dello spreco, assegnerà alle famiglie una quota pro capite maggiore rispetto ad altre situazioni del territorio italiano, consentendo alle scuole di mettere in bilancio un adeguato apparato di educatori e di psicologi. Anche per le zone a bassa densità abitativa, ad esempio le isole o i comuni di montagna, che non possono raggiungere i parametri numerici per classe richiesti dal costo standard, è ovvio che lo Stato fornirà alle famiglie un surplus di finanziamento sempre ricavato dal risparmio dello spreco e sempre controllando la qualità dei risultati. Ma scusi, Sua Rannamonia, chi stabilirebbe questi parametri? Occorre, ed è già stato fatto nel saggio Il diritto di apprendere, edizioni già pichelli 2015, occorre studiare i bilanci di realtà scolastiche virtuose in cui tutte le voci di spesa siano previste. Se alcune voci saranno fisse, ad esempio gli stipendi, altre avranno differenze locali che un pool di esperti, dirigenti e amministratori scolastici dovrà calibrare. Il tutto con la collaborazione degli ottimi esperti ragionieri del Ministero che, ve lo assicuro, anelano all'avvento del costo standard vista la fosca situazione presente e le preoccupanti prospettive future del bilancio della scuola pubblica statale. In termini economici, allo Stato quindi converrebbe introdurre il costo standard? Altro che, con l'introduzione del costo standard di sostenibilità per allievo, l'attuazione della libertà di scelta educativa garantirebbe come minimo un risparmio certo per le casse pubbliche di ben 2,8 miliardi di euro annui. Non si tratta di tagliare, ma di impiegare meglio le risorse. Ricordiamoci che il sistema scolastico italiano ha ampi sprechi. Un allievo della scuola pubblica statale costa oggi al contribuente 8.000 euro all'anno di spese del Ministero dell'Istruzione e, in aggiunta, riceve i finanziamenti di regione, provincia e comune. Per il milione di allievi che frequentano la scuola paritaria, lo Stato spende 500 euro annui per alunno, con un risparmio di ben 6 miliardi di euro, sempre per anno. Se questo milione di allievi e i 200.000 docenti a settembre trovassero i battenti chiusi delle loro scuole paritarie, ardente desiderio di una parte politica che attualmente ci governa, il Sistema Nazionale di Istruzione collasserebbe miseramente. E non solo lui. Cosa risponde a chi ricorda che lo Stato deve finanziare in base alla Costituzione solo alla scuola statale? Rispondo che l'articolo 33 della Costituzione, al punto senza oneri per lo Stato, dice che nessuna scuola privata può pretendere finanziamenti. Qui però stiamo parlando di scuole pubbliche paritarie, cioè di scuole che dallo Stato sono riconosciute e controllate, di scuole che fanno un servizio pubblico e che appartengono al Servizio Nazionale di Istruzione al pari delle scuole statali. Ma qui occorre una solida conoscenza dei diritti umani. I drivers delle pizze hanno i diritti, i genitori no. Attraverso il costo standard di sostenibilità che si fonda sul diritto inviolabile della libertà di scelta educativa, i finanziamenti non vanno dati alle scuole paritarie o statali, bensì alle famiglie che, come nella sanità, debbono poter scegliere a costo zero, avendo già pagato le tasse, dove educare i propri figli. La libertà di scelta dei genitori favorirà la sana concorrenza fra le scuole e l'innalzamento della qualità. Non per caso siamo negli ultimi posti OXE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, e PISA, il programma per la valutazione internazionale dello studente. In effetti, con la legge 62 del 2000, le scuole statali e non statali hanno acquisito una parità solo sulla carta. Perché la parità non si è mai attuata? Perché non risponde alla domanda chi paga? La scuola statale apparentemente è gratuita, ma così non è, come si è detto. Per la paritaria il cittadino paga due volte, con le tasse prima e la retta poi. E soprattutto chi è ricco va alla scuola americana o delle elite da 15.000 euro annui. Solo queste sopravviveranno. I poveri? Tutti alla statale che attualmente va come va. Se sei fortunato va bene, altrimenti mica puoi scegliere. In quest'ambito la dignità sembra bandita. E il mondo politico che ne pensa? Che i politici concordino sul tema, almeno a parole, è un dato acquisito quasi per tutti, poiché il buonsenso e l'attenzione al povero mi paiono condivisi. In estrema sintesi è la contemporanea presenza di tre libertà di insegnamento, di istituire scuole e di scegliere i luoghi dell'istruzione che rendono pluralistico il sistema scolastico indicato dalla Costituzione. Le prime due libertà apparirebbero inutili senza la terza, quella cioè della scelta della scuola pubblica, statale o paritaria da frequentare. Poi ci sono anche le scuole private, quelle che vanno avanti solo con le rette delle famiglie, stabilite in base loro ISEE. Anche questi istituti beneficerebbero del costo standard? Sicuramente stai parlando delle scuole private non paritarie, che sicuramente non stabiliscono le loro rette in base all'ISEE. L'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente e serve per poter accedere ai servizi a condizioni agevolate. Chi le sceglie, le scuole non paritarie, non sa neppure cosa sia l'ISEE, non gli serve, ha soldi da buttare. Certamente queste istituzioni che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione, composto da scuole pubbliche a gestione statale e scuole pubbliche paritarie, gestite da privati, regioni, province e comuni, non avranno niente a che fare con il costo standard di sostenibilità. Non ci azzeccano. Queste scuole private dei ricchi per i ricchi ci sono e ci saranno sempre. Che i loro gestori e i clienti paghino almeno tutte le imposte che devono. C'è chi le sceglie perché sono di elite e non accolgono né diversamente abili né extracomunitari. Ma non è un problema. Esistono anche le cliniche private dove il calciatore ingaggiato dopo la visita medica trova una selva di telecamere fuori ad aspettarlo. Ognuno spenda i propri soldi come vuole. Ma il povero deve poter scegliere la scuola pubblica che vuole, paritaria o statale. Che ne pensi? Carissima Anna Monia, grazie. Credo di aver capito un po' di più. Spero che i grandi ascoltino le cose che dici e che si diano da fare per cambiare la scuola italiana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.